In seguito al successo dell'arbitrato italo-tedesco di Vienna, il 5 novembre le truppe ungheresi hanno iniziato l'occupazione dei territori a popolazione prevalentemente emagiara dell'Ungheria settentrionale, fra l'indescrivibile entusiasmo dei cittadini. Il primo posto oltre confine liberato è stato il villaggio di Medve, dove un ponte è stato improvvisato sul Danubio per facilitare il passaggio delle truppe. Attraverso il grande ponte che allaccia Estergon, residenza del principe primate ungherese al villaggio Parcani, le truppe sono passate sulla riva liberata al comando dell'arciduca Giuseppe. Grazie a tutti!